Canto IV Occorrevano quei riti alla forma di famiglia, allo stato fermo e ricco di famiglia benestante. Il bambino da lasciare nel recinto a piano terra, con lo scivolo, i giochi, con le bolle in gomma piuma, poi ognuno ha la funzione, certi acquisti nel carrello da riempire in ogni spazio, certe marche che sapeva essere meglio, come il detto «chi più spende, meno spende». E l'offerta raccoglieva il 3x2 con il regalo, con il punto che spedito mette in gara all'estrazione. Il faut beaucoup, il faut avoir, pour savoir qu'on ne reçoit pas le bonheur en cadeau. Et le produit est un sens promis, il combla entièrement tout autre désarroi. J'ai passé ma vie à travailler, et certaines choses sont un droit, comme prendre un produit sans tomber dans deux, sur de la camelote, sans se faire rouler. Et qui se fait de ces noms, jamais entendu à la télé ? Poi la fame nominava. Niente basta. Mentre fuori, nel parcheggio, tra le auto, tutte in fila, il carrello accanto e pieno, scaricava nel baule. Ogni sporta chiusa bene, perché nulla si smarresse, perché nulla andasse perso, fosse preda d'altre mani. Et qui se fait de ces noms,